Ciao, sono Paola, sono una psicologa e una libera pensatrice e aiuto le persone a scoprire il proprio vero sé. Il video di oggi è dedicato all'amore condizionato e all'amore incondizionato, è un distinguo tra le due cose. Tratterò dell'amore incondizionato, come può l'amore condizionato, affliggere pesantemente e avere degli effetti sul bambino sulla bambina, mi riferirò al bambino per brevità e di come questo possa influenzare le future relazioni amorose ma anche le future relazioni di amicizia e sul lavoro che va a sviluppare l'adulto e prima ancora l'adolescente e poi farò un esempio, l'esempio di Marco e Anna, due personaggi realmente che esistono ma di cui appunto copriremo i nomi per privacy e tratterò la loro storia e poi darò quello che in psicologia si chiama suggerimento clinico e vedrò di sviscerare il loro rapporto e come possono risolvere il loro rapporto che è caratterizzato principalmente da un amore condizionato di lui e un amore incondizionato di lei e quindi crea una relazione che non è salutare e che a tratti è tossica e alla fine darò un grande un grande un grande mio pensiero su come avere relazioni incondizionate su come vincere per così dire in amore però non è quello che sembra e le parole alle volte sono ingannevoli quindi state collegati perché iniziamo subito. Il concetto di amore cos'è l'amore si sviluppa principalmente nell'infanzia perché il bambino piccolo e il bambino appena nato non sanno cos'è l'amore quindi prendono il concetto di amore dai propri genitori soprattutto dalla madre che in psicologia è la figura di il caregiver quello che si dice il caregiver la figura di riferimento primaria e possono prendere il concetto di amore pure dal padre o da altre persone importanti all'interno della famiglia succede che se la famiglia specialmente la madre ma può essere anche il padre danno un amore di tipo condizionato cioè settato solo sui propri bisogni i propri bisogni del padre della madre le aspirazioni che hanno sia il padre che la madre di vedere il proprio figlio realizzarsi nella vita e crescere però secondo le aspirazioni che hanno i genitori e non le aspirazioni che hanno i figli questo può creare problemi e in definitiva traumi nel bambino che diventato adolescente può prendere due strade diventare evitante quindi fare un mirroring imitare il tipo di amore condizionato che era basato solo su fai la cosa giusta e ti premio e ti do scusate una vespa fai la cosa giusta e ti premio e ti do amore e fai la cosa sbagliata e c'è una sorta di punizione e quindi è condizionato in base a quello che tu fai e in base a che sei se sei un bravo bambino o anche una brava bambina e questo porta a disguidi perché il bambino non si sente mai accettato e non si sente mai che è abbastanza per i propri genitori ma non può sfogare soprattutto magari a 5-6 anni la rabbia nei confronti dei genitori perché la vede come distruttiva e non vuole perdere l'amore dei propri genitori quindi diventato adulto può sviluppare lo stesso tipo di attaccamento interazione e unione che si sviluppa tra il padre e la madre in lui e diventare evitante a sua volta nelle riduzioni chiudere i sentimenti chiudere il suo amore nei confronti degli altri diventare ad esempio narcisista un narcisista covert che sono molto più difficili da evidenziare e sono sono più timidi e sono più discreti possono apparire come bravi ragazzo bravi ragazze sono ben inseriti nella società e rispetto a una stagista overt una stagista estroverso come può apparire a tutti l'esempio di christian gray in 50 sfumature di grigio con tratti anche di sadismo sono due lati della stessa medaglia questo argomento se vi piace potete lasciare un commento la tratterò più approfonditamente ma comunque sono dei drammi che tutti che 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 tutte e due tipi di narcisiste vivono è un dramma che anche chi invece non imita i propri genitori ma vuole un senso di rivalza è un senso di di avere amore l'amore che i propri genitori l'amore incondizionato che i propri genitori non sono riuscito a dargli sviluppa un attaccamento di tipo insicuro ma ansioso cioè vuole a tutti i costi entrare in relazione quando è adolescente soprattutto la donna ricerca disperatamente l'uomo sente che senza l'uomo non è completa in se stessa e praticamente si ricopre di attenzione vuole costantemente essere avvalorata nelle sue intenzioni perché non ha una sicurezza interna non ha quello non è come si dice in inglese confident non ha autostima sufficiente autostima per proseguire con le proprie gambe e pensare che le opzioni sono aperte e che gli uomini validi gli uomini che sanno offrire amore incondizionato ci sono sono più di uno e non si stacca dalla fantasia del dell'uomo della vita ma è disperata in se stessa eppure l'uomo è disperato in se stesso quest'uomo che non riesce a instaurare relazioni che è timido e che vuole a tutti i costi e il suo grido è quello di essere amato appunto come dicevamo prima conosco marco e conosco anna e marco per sua natura abbastanza narcisista e con tendenze anche al sadismo marco e anna hanno una relazione da circa cinque anni è una relazione come si dice in inglese on e off con strappi riprese strappi e riprese perché dovete sapere che marco non vuole fare una scelta marco vuole sia stare con anna che essere ammirato e essere compiaciuto da diciottenni ventenni o forse anche meno questo non è non agisce in questo in senso che non c'è nessun ricrimine a mio avviso nel farsi piacere una una ragazza giovane perché da giovani siamo tutti più belli ma bisogna fare delle scelte se mentire a se stessi e mentire alla propria partner o rimanere nella relazione sudare per la relazione e rimanere costanti e avere un progetto di vita soprattutto quando si arriva a un'età come quella di marco la quarantina d'anni in cui si sente sfuggire il tempo e di contro magari si vuole essere ancora peter pan senza sconsiderare come dice jordan peterson che la cosa più grande che può fare un essere umano per dare senso alla propria vita è l'accettazione del suo limite della morte quindi in questa scettazione c'è un senso di spingersi avanti per realizzarsi arrivare a quella che jung chiama la propria individuazione personale questi strappi che si creano nella coppia sono con una certa parte dovuti alla connivenza di anna nel non saper lasciare andare una relazione che le fa male perché ha paura di restare da sola anna è una donna sulla cinquantina d'anni molto attraente con una carriera avviata che però non riconosce a se stessa tutto il suo valore e pensa di non esistere pensa che andrà in mille pezzi se non ha l'amore di marco che è un amore condizionato quindi l'amore condizionato con l'amore incondizionato porta sempre a problemi e come si può evidenziare lui ha un attaccamento di tipo evitante con tendenze narcisistiche sadiche e tendenti a quello che la psicologia chiama narcisista maligno e lei invece è molto ansiosa e dipendenze creando così nel rapporto codipendenza non sto qui a dirvi tutte le i tentativi di lui di trovarsi diciottenni vententi sempre andati sempre risolti se in buchi nell'acqua perché quello che cerca marco non è l'esperienza reale l'agire sui propri desideri e sui propri sentimenti ma solo l'essere riconosciuto egoisticamente e gotisticamente come farebbe un bambino di 5-6 anni e anche lei Anna è come una bambina di 5-6 anni ansiosa di essere protetta da un padre più giovane e quindi non riesce a staccarsi ma Jordan Peterson lo psicoterapeuta Jordan Peterson ci ricorda che per ogni scelta che facciamo nella vita sul lavoro nella vita di tutti i giorni quando prendiamo le nostre decisioni c'è sempre un sacrificio che dobbiamo compiere quindi è utile nella vita arrivati a un certo punto e soprattutto arrivati sulla trentina sulla quarantina e sentendo che non ci siamo ancora realizzati profondamente scegliere cosa vogliamo sacrificare per realizzare i nostri desideri e i propri sogni e soprattutto decidere essere consapevoli fare un lavoro su se stessi su cosa sono innanzitutto i propri sogni e i propri desideri e cosa vogliamo veramente dalla vita concludo dicendo che Paolo Nutini un famoso cantante scozzese ma di origini italiane dice the only way you win is the way you lose l'unico modo in cui vinci è quando perdi dicendo in definitiva quello che dice Jordan Peterson che per ogni cosa bisogna sacrificarne un'altra e il nostro cammino viene segnato dalle scelte che facciamo e da tutte le scelte che scartiamo così ci realizziamo ci individuiamo e siamo veramente noi stessi per questo video è tutto se vi è piaciuto mettete like commentate risponderò a tutti e in questa bella giornata inglese vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video much love peace